Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 28 aprilio. Quali sono i temi fondamentali sui giornali? Facciamo una rassegna light, anche perché ho iniziato molto tardi. Il dato fondamentale sarebbe sui giornali lo scontro tra il Governo e la Procura di Catania. La Procura di Catania, con il procuratore Zuccaro, l'avete visto a Matrix nei giorni scorsi, e non solo a Matrix, anche in altre televisioni, il Governo più o meno se la prende, questa è la sintesi dei giornali, col procuratore, perché il procuratore ha detto due o tre cose. La prima è che tra le ONG e gli scafisti c'è qualche accordo di troppo, qualche accordo che non nasce da un contratto scritto, dice il procuratore molto chiaramente, l'ha detto a Matrix, quindi ve lo posso dire a ragion veduta. Lui dice, vi faccio un esempio, quando io ho attraverso dei sistemi non di polizia giudiziaria, cioè dei sistemi che non possono essere utilizzati all'interno del processo, mi accorgo che via radio gli scafisti chiamano le ONG per far salvare delle persone all'interno dei barconi, c'è un rapporto tra ONG e gli scafisti, che non sono ovviamente dei rapporti contrattuali, non c'è uno scambio di soldi, non rappresentano neanche una prova che può essere trasmessa in tribunale, ma che danno la dimostrazione di una cosa che peraltro ha già detto il Frontex, cioè che gli scafisti, forti del fatto che le ONG operano a ridosso delle acque libiche, delle acque territoriali libiche, questi scafisti non hanno più bisogno di fare le barche che arrivano con 80 a 80, 100, 200 miglia dalla loro costa, ma ne bastano 10 miglia, quindi delle barcacce e per loro è una specie di, ve lo dico io, traghettamento. Questo è quello che dice il procuratore. Il governo se l'è presa, nonostante poi la commissione guidata alla Camera, si sta occupando esattamente al senatore, il relatore forse al senato, si sta occupando esattamente di questo, perché in realtà quello che dice il procuratore è che ha bisogno di più mezzi e soprattutto di più strumenti di indagine. Vabbè, la sapete come la penso io questa cosa qui, nonostante il politicamente corretto di tutti quanti, la penso molto semplicemente, che è evidente che quanto è più facile l'idea per un disperato di riuscire ad avere il salvataggio in Italia, quanto più facile, tanto più il tam tam fa sì che in tutte quelle zone dell'Africa si vada a sperare e a fare un viaggio della speranza, la cui speranza è sempre maggiore, posto che c'è una possibilità sempre maggiore di essere salvati. È evidente quindi che vi è un effetto di tiraggio da parte di quelle popolazioni, perché sanno che comunque addirittura 10 miglia della costa libica avranno una barca che li salva. Gli sbarchi, non è un caso, oggi sul Corriere della Sera dice che sono aumentati del 51%, e che non solo sono aumentati del 51% gli sbarchi, ma che hanno sempre preso crescente slancio le attività di salvataggio da parte dei privati. Cattolici, ONG, cattolici e sinistra, come spesso avviene in quel bel mix catto comunista che rappresenta una delle costanti della nostra storia politica italiana, la cui sintesi perfetta è il quotidiano L'Avvenire, il quotidiano il cui direttore Tarquinio, prima di fare un passo indietro nelle settimane scorse, ci aveva spiegato che tre quarti delle proposte del Movimento 5 Stelle coincideva con quelle dell'Avvenire e quindi dei cattolici, evidentemente un quarto delle proposte non coincide, riguardano proprio l'ONG, perché il Movimento 5 Stelle è balsato su questa vicenda dell'ONG con Di Maio, l'avete visto a Matrix, beh l'Avvenire oggi invece e anche nei giorni scorsi è contrarissimo a questa equazione ONG traghettatori disperati, tant'è che oggi dice teorema sull'acqua, sarebbe quello del magistrato di Catania. Bella oggi l'intervista a Luca Donadel, che abbiamo usato Matrix perché è un nostro amico che fa dei lavori straordinari, perché è stato il primo in Italia a far vedere come in realtà queste ONG con le loro, l'ha tracciato in maniera banalissima, ha fatto vedere come queste ONG andassero al ridosso delle coste libiche, bene, Luca Donadel viene attaccato dall'Unità, dall'Avvenire, dal manifesto come se le sue fossero fake news, le fake news sono quelle dei giornali degli ultimi anni, che non hanno guardato e non hanno visto quello che stava avvenendo, quello che è una procura sulla quale sta indagando, quello che aveva detto il Financial Times, quello che ha scritto Donadel e adesso è favoloso che un ragazzino di 23 anni, che ha certificato le cose come pochi, venga accusato di fare le fake news, andate a vedere, scrivete su Google Luca Donadel, guardate quello che lui ha fatto su internet, poi mi dite se così si fanno le fake news in Italia, anzi è esattamente il contrario, ce ne fossero di Luca Donadel, intervistato oggi per chi volesse dal giornale all'Italia, non diventerà dello Stato, lo stanno probabilmente non tutti i politici al governo, non ci credete, balle. Intanto gli stiamo dando 300-400 milioni e come dice Pado, non gli diamo questi soldi soltanto per non fermare i voli, figuratevi un po' voi, io viaggio moltissimo qua all'Italia perché è ancora molto comodo fare Roma-Milano qua all'Italia, so che molti voi preferiscono il treno, io ci metto esattamente un'ora di meno, il servizio è ottimo, è caro ma è ottimo, però pago due volte, pago il biglietto e pago come contribuente il fatto che adesso ci sarà un prestito ponte per far funzionare all'Italia, sull'Italia lo sapete come la penso, l'ho scritto su questa pagina Facebook ma non solo, in tutti i modi possibili e immaginabili, oggi il pezzo più interessante se dovesse venire confermato perché ci sono dei condizionali è quello che mi sembra di Filippetti sul Sole 24 Ore che dice Tiad ha pagato 380 milioni poi il 49% dell'Alitalia, ma questi soldi gli arabi se li sarebbero ripresi con gli interessi, sostiene, per due, soltanto due operazioni, la prima è che avrebbe venduto all'Italia degli slot, ha venduto 5 slot dall'Italia a Londra, gli slot sono la possibilità di atterrare in un aeroporto che sono proprietà di una campaniere e l'Alitalia li ha venduti ai Tiad e li ha venduti a 60 milioni, c'è chi dice che il valore era 10 volte tanto quasi di questi slot, io non sono in grado di giudicare, Filippetti la mette al condizionale, ma comunque il tema è che se così fosse, soltanto da questa vendita degli slot a prezzo scontato, gli arabi avrebbero guadagnato 300 milioni, in più l'Etiad, pochi lo sanno, ha il 75% della società Mille Miglia che ha tutti i nostri dati, tutti i premi, eccetera, e quello è un grande valore economico, insomma è molto interessante capire se è vero che l'Etiad si è rifatta alla grande dell'investimento fatto in Alitalia. Mi spiace per chi mi ha detto ora che il video è fatto a scatti, io sono in una zona in cui il wifi funziona molto bene e non ci sono, non dovrebbero esserci problemi. Bellissimo il colonnino sul rischio tumore, bellissimo, è un eufemismo, i PM di Ivrea, i giudici di Ivrea hanno detto che c'è una correlazione tra l'utilizzo intenso del telefonino e il tumore al cervello che ha avuto una persona e pare, anzi nelle, come si chiama, nelle motivazioni c'è scritto che il cellulare in quel caso ha dato tante radiazioni quanto quelle della bomba di Hiroshima. Io non metto in dubbio quello che dicono gli avvocati, una sentenza di primo grado del giudice del lavoro, per carità, ma se l'utilizzo del mio telefonino, eccolo qua, se l'utilizzo di questo telefonino è come Hiroshima, diciamo che se così fosse vero, capisco, forse perché l'ha usato tanto, ma poi forse meno di quanto lo uso io e allora devo dire che tutti quanti moriremo molto presto di tumori, io spero che non sia vero, lo dico da un punto di vista semplicemente logico, se questo è Hiroshima speriamo che il giudice abbia detto una minchiata sonora, se no siamo tutti quanti più o meno morti che camminano. I PM invece su un'altra questione altrettanto importante di mafia capitale hanno chiesto 515 anni di carcere per 46 imputati, 28 anni per carimati, ercecato, 26 anni per Buzzi che era il signore che gestiva le cooperative rosse e 19 anni per il consigliere regionale Gramazio. Allora, sono le richieste dei PM, vi dico soltanto una cosa, io ho l'impressione che la mafia non c'entri nulla con Roma, tant'è che molti di quelli di questa inchiesta, vedisi, animano, sono usciti completamente da questa inchiesta e che le richieste sono incredibilmente micidiali, esorbitanti, cioè si chiedono 29 anni, 28 anni, 28 anni, cioè per che cosa? Ha ucciso qualcuno? Ha minacciato qualcuno? Ha rubato? Certo, gravissimo, fa schifo, devono dimostrarlo, ma qui temo che sia una costruzione, quella di mafia capitale già nel titolo, che ci porta all'idea di un disastro e poi vedremo alla fine del primo grado, secondo grado, terzo grado cosa rimarrà di queste roboanti richieste, roboanti richieste, vediamo, insomma un po' più di questo non posso dire, ma avete capito qual è il mio pregiudizio, il mio pregiudizio è che abbiano chiesto 100 per ottenere 2 e una volta che otterranno 2 rimarrà l'idea di mafia capitale, avranno rovinato una serie di persone, magari alcune molto assolte, loro avranno fatto l'inchiesta mafia capitale che poi ha partorito un topolino e soprattutto non ha migliorato la situazione delle cooperative romane che continuano a lavorare come se nulla fosse. Ultima cosa per chi fosse interessato, Rampini parla degli operai che ancora stanno con Trump in una bella inchiesta oggi su Repubblica e Alessandro De Nicola, molto interessante sulla stampa di oggi, guarda tra i pochi in maniera, diciamo secondo me, corretta la riduzione importante delle imposte fatte da Trump perché tutto viene, come possiamo dire, creato su Trump tranne una cosa, quando lui riduce le imposte tutti zitti e muti, il presidente della Adam Smith Society pur tra luci e ombre spiega perché la direzione della riduzione delle imposte americane è sacrosanta. Vi do un saluto, vi do appuntamento domani e mi scuso perché oggi ho fatto davvero tardi. Ciao!